alcuna autorizzazione. Sono stati i carabinieri della tenenza di Scicli, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, a scoprire la situazione e a prendere gli opportuni provvedimenti. L'area interessata si trova in contrada da Musi ed è vasta circa 4.000 metri quadrati. I militari hanno scoperto che al suo interno si trovava un ingente quantitativo di rifiuti stoccati e che a costituire quest'area di primo stoccaggio dei rifiuti ingombranti era stata la ditta paltatrice del servizio di raccolta RSU nel comune di Scicli. Per svolgere questo tipo di attività sono necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti alla gestione della materia ambientale, ma i carabinieri hanno verificato che la ditta non era in possesso di alcuna autorizzazione in merito. La vasta area è stata controllata in maniera approfondita ed è stata verificata la presenza di numerosi rifiuti, sia speciali non pericolosi che speciali pericolosi, in buona parte di tipo tecnologico. Il terreno è di proprietà di uno ciclitano di 68 anni che ha volontariamente affidato il terreno alla ditta di raccolta rifiuti. Al termine delle operazioni è scattato il sequestro penale per l'intera area e il provvedimento è stato trasmesso alla procura di Ragusa per il successivo corso di legge e notificato alla ditta e al comune di Scicli. L'operazione ha permesso di interrompere una grave situazione di compromissione dell'ambiente.